Abbiamo due situazioni. Tutto è dall'illusione alla realtà spirituale attraverso Mario del Giglio. Domanda. Chi vive delle esperienze cosiddette di pre-morte afferma che una volta cessato di battere il cuore sente di muoversi rapidamente in un lungo tunnel scuro, di trovarsi fuori dal corpo, di osservarsi, di accorgersi, di esistere fuori dal proprio corpo fisico e di muoversi all'interno di questa dimensione che è accanto o al di là della nostra. E questa è in realtà l'esperienza di chi realmente muore? Guida, sì, ma non è quella la morte reale del corpo. Pure alcuni fratelli tra di voi, anche se non vivono in fase di coma, sono in grado di staccarsi dal proprio corpo e possono avere quella visione del proprio corpo inerte. Tuttavia in questi casi non si può parlare di morte fisica che sia solo quando il passaggio è definitivo. Allora abbiamo due situazioni. La prima è quella di una finta morte che non essendo ancora terminato il tempo stabilito per la propria vita prima di ritornare sulla Terra, è soltanto apparente. È in questa situazione che si può avere la visione del tunnel. Quando invece è realmente terminata l'esperienza terrena, non essendoci più ritorno nella vita materiale, si avrà un'altra visione che non è quella del tunnel. Il tunnel, se così si può chiamare, è un'immagine significativa perché lascia intendere che dovete ancora rimanere o, diciamo, ritornare a finire la vostra esperienza. È comunque, per chi lo vive, una testimonianza che la vita continua. Quando invece l'esperienza è terminata, non si vedrà più il tunnel, ma si avrà una coscienza e una visione diversa come un bagliore di luce che illumina. Alcuni, secondo la loro esperienza, potranno raccontarvi quello che è stato il loro vissuto dopo il trapasso. Ma, naturalmente, non è per tutti uguale. E qui mi potresti obiettare. La visione non è per tutti uguale? Sì, sarà uguale per tutti coloro che avranno una elevata presa di coscienza del proprio Se spirituale.